Tanta paura, fortunatamente nessuna grave conseguenza per un incidente stradale che si è verificato stamani poco prima delle 8 all'interno della Galleria Tricale, direzione Chieti. Cinque auto e una moto sono rimaste coinvolte in un maxitamponamento sul posto. Sono intervenuti gli agenti della squadra volante e carabinieri di Chieti, oltre ai sanitari del 118. Una vera e propria carambola di auto con il traffico in tilta, secondo quanto sia preso, la moto sarebbe andata a sbattere contro un'auto e i mezzi che sopraggiungevano non hanno potuto evitare l'impatto. Ma la dinamica tuttavia è ancora da accertare. Non si registrano feriti gravi, solo qualche contuso e grande spavento ad avere la peggio il conducente della moto che è stato trasportato all'ospedale di Chieti. Forze dell'ordine e soccorsi sul posto affinché il traffico potesse tornare alla normalità.